Dai, su, quanti di voi? Dai, potete dire, ditelo a Big Blue, dai, momento verità con Big Blue. Capite che ci sono le bubole in giro, o il vostro patrimonio è la mia oscillazione. Veri ricchi investono tutto a cazzo duro. Where is the Arctic? I don't see it. È il consulente marketing più pagato al mondo. Ok, benvenuti a tutti, eccetera, eccetera, eccetera. Una giornata con lui costa 20.000 euro. Riconosciuto come il creatore di milionari. Allora, ascolta attentamente il papi. Ha già rivoluzionato le sorti di decine di migliaia di imprenditori. È tra gli esperti più preparati al mondo in campo marketing, business e make money. Abbiamo creato un qualcosa di mai visto prima. Con il suo approccio brutalmente diretto e pratico, è il punto di riferimento mondiale per chiunque voglia generare profitto. Imparare veramente come si fanno più soldi, veramente come si è liberi. Imprenditore, autore e formatore acclamato. Signori, lui è Big Luca. Alcune cose. Parliamo adesso degli investimenti a questo livello qua. Allora, innanzitutto, con gli ETF si passa a ETF con lo yield. Cioè con un po' di dividendo. Enfasi. Questo l'ho spiegato anche nella fase 1, ma adesso ne parliamo meglio. Sui bond, vediamo anche adesso che banchi usare, eccetera. Bond. Real Estate. I mezzi non cambiano, però cambia un attimo la maniera. Quindi, mentre nella fase 1 ho paventato che il punto di arrivo sarebbe stato probabilmente questo, adesso parliamo di questa cosa qua. Ti torna, Ridolini. Ho detto questo è. Però lì ho detto, vabbè, accumulate un po' di ETF e fine. Ora, voi volete avere un portafoglio di ETF che va sia in apprezzamento sia in dividendo. Il tema è che se non avete mai ricevuto dividendi dal vostro patrimonio, è molto difficile immaginarsi qual è la sensazione di riceverli. Lo ripeto. Se non avete mai ricevuto dividendi dal vostro patrimonio, è molto difficile immaginarsi qual è la sensazione di riceverli. Quando li ricevete o quello che è. Quindi, secondo il mio modello, la libertà si conquista avendo una rendita, avendo una cedola che arriva. Non mi piace il discorso di cominciare a vendere le azioni. Cosa che alcuni di voi hanno fatto per comprare le cripto. Ah, questo potrei tirarne fuori, guarda. Quanti di voi hanno venduto gli ETF per comprare le cripto? Dai, su. Quanti di voi? Dai, potete dire, ditelo a BigBlue. Dai, momento verità con BigBlue. Questo c'è le mie consulenza privata. Dai, potete dire. Quante cripto. Quanti di voi? Questa è un'altra cosa. Sapete quanti dei miei studenti hanno più di un milione in ETF? Perché, vedete, mi hai già detto di accumulare. Sì, ma non lo fanno. Sapete quanti? Ridolini, secondo te quanti? Io il numero che stai facendo non lo dirò. In realtà, allora, fai un numero che io so per certo che hanno più di un milione in ETF. Qual è il numero? Non lo vedo. Io penso che da lì ne togli due o tre. Non vi dirò che numero aveva fatto. No? Tu gli dici, fate il piano di accumulo. Poi appena uscilla un attimo, quanti si sono cagati addosso per l'oscillamento? Pure io non mi è piaciuto l'oscillamento, pure perché io ho oscillato di più di sette figure. Ma il vostro patrimonio è la mia oscillazione. Ehi, mi raccomando, iscriviti al canale per attingere a tutte le informazioni più aggiornate ed efficaci su marketing, business e profitto. Quindi cominciate a cagarmi il cazzo. Non solo, avete tolto dagli ETF, li avete messi in crypto, li avete persi e siete stati zitti. E voi sapete che è così, perché il vostro patrimonio non è cambiato e siete tutti combinati così. E voi che dite che bisogna investire e investire, avete capito perché io nell'altro corso vi avevo detto tutti dicono di investire ma la gente non investe? E voi avevate cominciato ad investire in borsa sentendovi superiori ma poi l'avete smessa perché avete trovato qualcuno chi vi ha detto che i veri ricchi mica investono nel piano di accumulo. I veri ricchi investono tutto a cazzo duro. Where is the Arctic? I don't see it. Capite che ci sono le bubole in giro. Chi l'ha già sperimentato adesso l'ha capito? Ma guarda tutti, tutti. Poi purtroppo ho molti studiando a Dubai così. Dubai è fatta così ragazzi. Cioè capisco, io lo sentite. Io ho sentito ragazzi quello che avete sentito voi al quadrato. Sono anche vere certe cose. Io non voglio dire, io sono mica, sapete che è un più milionario di Dubai. Io a Dubai non esisto ma lo so anch'io. Ho capito però se gli altri, uno ha fatto il crack della multinazionale e è scappato in Argentina. L'altro ha rubato i soldi al fondo di investimento delle Camer. Poi hanno rubato un miliardo e sono a Dubai. Piuttosto che hanno business dove è tutto legittimo ma hanno cinque trust in capo all'azienda. Ragazzi lo so io che sono più ricchi di me. Cioè però, capite, succede molte volte. Questa è una cosa che influenza molto le persone che stanno a Dubai, devo dire la verità. Però questi sono errori. Io non avevo mai detto di togliere i soldi dal broker. Ma sapete quante per manca? Ma tutti. Tutti. E continuano a reinvestire. E hanno creato altre società. E hanno creato altre aziende. Non riescono a monetizzare. Hanno tolto il focus. Allora, viviamo di rendita ragazzi. Quindi dovete riaprire il vostro broker. Sapete? Quell'app impolverata che avete nel vostro cellulare. Eh, che state ridere. Dai, dai, riaprite. Fate i bravi. Su via, su via. Basta. Aprite. Ritornate a fare i bonifici. Ritornate a fare i bonifici. Ok? Mettete lì tutta la vostra pila. Volete fare gli uomini grandi? Mettetele tutta la vostra pila liquida. E investitela tutta adesso. Adesso siete ritornati a zero. E dovete ritornare a vendere. Vendere. Non dare indietro le cose che non esistono. Quindi, siccome avete già... Siete pericolosi quando vendete le azioni. Che l'avete già fatto. Non vendiamo le azioni. Le azioni ci devono dare dei dividendi. Le azioni ci devono dare dei dividendi. Ok? Quindi, comprate degli ETF. F con lo Yield.